Novità per C-Roller Team riguardanti la stagione 2018. Partiamo naturalmente da Autoroller ed Elliot. Sì, mai come quest'anno abbiamo così tante novità in tutta la nostra gamma. Quindi partiamo, come detto, dall'Elliot Autoroller, cui abbiamo introdotto una versione speciale, completamente rinnovata dal punto di vista di design, a un prezzo estremamente competitivo. Poi l'Elliot Autoroller si sono impreziositi ulteriormente nei loro interni. Poi passiamo al nostro cavallo di battaglia, il Magis e Zephyro, gamma interamente rinnovata nei contenuti e nello stile e abbiamo introdotto in questa gamma un motorhome. Quindi un motorhome nella gamma Zephyro e Magis estremamente competitivo sia come prezzo, sia come contenuti e come design. Abbiamo mantenuto Riviera e Granduca e abbiamo poi il nostro cavallo di battaglia, che è il nostro top di gamma, il veicolo lanciato lo scorso anno, il Triaca. Per quanto riguarda i van, segmento in forte crescita, aumenta la nostra offerta in questo segmento grazie a nuovi layout e una versione speciale, una versione quasi direi automobilistica che associa sia la sportività, sia i contenuti di un camper, veramente alla portata di tutti. Per quanto riguarda i motorhome, da quest'anno anche delle versioni con Alde? Sì, abbiamo pensato di ampliare l'offerta anche con Alde. i nostri veicoli ormai con la coibentazione possono veramente essere utilizzati anche d'inverno. Per quanto riguarda invece Granduca e Riviera? Granduca e Riviera abbiamo rinnovato completamente questa gamma lo scorso anno, era il nostro top di gamma, continua a essere il nostro top di gamma, l'abbiamo arricchita con un pack di accessori estremamente importante per il camper. Grazie a tutti.